Gli esperti di marketing usano tutti i tipi di trucchi per vendere i loro prodotti a un prezzo più alto. Oh, ci sei cascata, eh? La magia del vero caffè. Solo l'odore da solo ti fa venire voglia di conquistare nuove vette. E il sapore è incredibile. Ma non perdere la testa. Hai una giornata impegnativa davanti a te. Vai a fare jogging mattutino. Goditi la tua energia. Cosa succede nella realtà? Ti svegli con un sorso di caffè? Bene, sembra promettente, ma il life hack non funziona. Oh, così sonno. Dov'è la mia energia? Dovrei assumere una dose maggiore. Oh, sento qualcosa. E quel qualcosa è l'ipertensione. Non scherzare con la caffeina. Quando sei nel bel mezzo di una festa e hai ballato, devi rilassarti e ricaricarti con una Pepsi. Un clic e sei la star della festa. Cin cin! Con Pepsi la festa può continuare per sempre. L'idea di diventare una star delle feste è super allettante. Vuoi provarci? Ai, le mie unghie! Dov'è quell'attenzione che avrei dovuto ricevere? Attento, per favore! Quindi, pensi che la star della festa possa essere una ragazza con una macchia sulla maglietta? Molto divertente, pubblicità. Sei online. Lunghe conversazioni con un'amica. E con un'altra amica. E con un'altra. Può andare avanti per ore. È fantastico avere delle amiche. Oh, quasi dimenticavo. Dobbiamo fare dei selfie. Il mio telefono funziona ancora. Tutto grazie alla batteria extra. Bello, non è vero? Peccato che le cose non siano così belle nella vita reale. Lasciare la presa per un minuto? No, assolutamente no. La batteria muore nel momento peggiore possibile. Ce ne siamo. Le Skittles sono un intero arcobaleno di sapori. Il segreto è semplice. Mangi qualche Skittles e ti trasformi in un arcobaleno. È contagioso. Dai, è solo varicella da Skittles. Sono buonissime. Uno, due. Il pacchetto si esaurisce velocemente. Bene, bene, bene. Ecco l'effetto. Ma perché le macchie sono rosse e pruriginose? Mi sa che sono allergica. se non ti piace lavare i piatti, non hai ancora provato il nostro nuovo detersivo. Solo una goccia e un'intera montagna di piatti è totalmente pulita. È impressionante. Sembra piuttosto allettante. E dov'è la schiuma che hai promesso? Perché una goccia è sufficiente per un solo piatto? È finito il stracone. Di già? L'ho comprato solo ieri. Forte snella. Pensi che sia solo fantasia? Con questa nuova barretta proteica diventa realtà. È delizioso e nutriente. Riempirà il tuo corpo di energia. Sì, è pure energia. Niente calorie extra. Potrei mangiare una barretta. Mi piace. È anche dolce. E il cibo dolce salutare è un'idea perfetta. Chissà se ho già perso peso. Cosa dice la bilancia? Cosa? Quanti chili in più? Quel periodo del mese non ti disturberà più grazie ai nostri nuovi prodotti igienici. Sentiti bene a tuo agio con la nostra tecnologia innovativa. Dimentica il dolore e il disagio. Puoi andare in palestra in qualunque momento. E la cosa preferita dai pubblicitari sono i pantaloni bianchi. Non è per niente come nella realtà. Ma quale palestra? Che caldo e antidolorifici al massimo. Mi sento così male. Evidentemente i pubblicitari non hanno mai avuto il ciclo. Dei capelli belli tutto il giorno sono il sogno di ogni ragazza. Questa nuova lacca per capelli realizzerà i tuoi sogni. I tuoi capelli saranno lussuosi in ogni momento. Che tu sia al lavoro o a una festa. È superforte. A tardasera i tuoi capelli sono ancora perfetti. Bene proviamo questo fantastico prodotto. Ok attenzione ragazzi. Questa bomba sta andando a fare una passeggiata. Eccola qui dopo il primo contatto con il tempo. In tutte le condizioni atmosferiche hai detto? Una leggera brezza mi ha rovinato i capelli. Qual è la parte migliore di un croissant? Esatto il ripieno. Il nostro nuovo prodotto ha più ripieno che mai. Attenta un ripieno scapperà. Oh sono così eccitata. Ehi dov'è il cioccolato? Questa è una patetica parodia del ripieno. Avevo delle aspettative così alte. Uffa. Nel nostro studio dentistico il tuo trattamento si trasformerà in una festa. È veloce, di qualità, in dolore. E la cosa più importante, per niente spaventoso. Non vediamo l'ora. Penso che ci siano troppi sorrisi per un annuncio. Nessuna paura e dolore. Suona bene. Ma andare dal dentista è sempre un incubo. E dov'è quella simpatica dottoressa della pubblicità? Va bene. Fatto. Niente denti, niente problemi. Molte pubblicità di profumi contengono donne bellissime. Guardala. Cattura i cuori proprio come questa nuova fragranza. È squisita, eccitante, è gentile, è affascinante, è abbagliante. Non puoi dire di no. no. Suona bene. Ah, i miei occhi. In realtà, questo tipo di profumo è il migliore contro i tipi strani. Funziona meglio di un cartello con scritto sta indietro. Cos'è quell'odore schifoso? Non dirmi che è il mio nuovo profumo. Cosa posso mangiare oggi? Le patatine sono l'esplosione di sapore più brillante del mondo. Sono croccanti e salate. Tutti dovrebbero provarle. Ok, immagino che non andrò contro il sistema, soprattutto quando si tratta di patatine. Dove sono le patatine? Non ci sono altro che briciole qui. Questa polvere non assomiglia alle splendide patatine della pubblicità. La delusione del secolo. Si scopre che il latte in sacchi è davvero difficile da usare. Non importa come lo apri, si rovescerà comunque. Ma da oggi basta. È tempo per la tecnologia moderna. Una tazza da latte. Metti la confezione all'interno e la usi come una lattiera. Nemmeno una goccia sul tavolo. Questa è davvero una situazione comune. Ho un incidente con il latte ogni giorno. E nella realtà rovesci ancora il latte. E se il risultato è lo stesso, perché pagare di più? Vuoi rinfrescare l'alito? I tic tac alla menta sono sempre pronti ad aiutare. Solo un paio di mentine la tua bocca è fresca. E non preoccuparti, con questo pratico dispenser otterrai la quantità perfetta di mentine. Sembra un buon momento per rinfrescarsi l'alito. Le vuoi? Ok, ma solo un paio. Oh no! Prendile! E dov'è l'effetto menta? Comodo dispenser, dicevano. L'estate è già arrivata. Fa caldo e sei... sudata! È fantastico che con il nostro nuovo deodorante puoi dimenticare i problemi di umidità per tutto il giorno. Nessuna macchia, solo comfort. Oh sì! Alla fine hanno trovato un deodorante perfetto! Bene! Sei sveglia? Ehi! Dov'è l'asciutto che hanno promesso? Il mio maglietto è fradicia! Oh! Che odore! E i segni bianchi sui miei vestiti? Perché l'ho comprato? Le colazioni in famiglia sono una tradizione meravigliosa, soprattutto quando mangiate pane e Nutella. Ha un profumo incredibile! La nostra mamma è la migliore! Quanto tempo ci vorrà? Stiamo morendo di fame! E quindi? Pane con un po' di poltiglia marrone? Ma stai scherzando? Mamma, mangialo tu! Bene, lo farò! E solo così scoprirai che è delizioso! In teoria, deve esserlo! Un buon dentifricio lascia i denti sani e freschi tutto il giorno. È ancora meglio quando il dentifricio arriva in un pratico tubetto. Basta una semplice spinta e la giusta quantità è sullo spazzolino. E la ragazza nello spot è come la fatina dei denti. Il suo sorriso bianco come la neve è impressionante! Ma in realtà niente sta andando secondo i piani! Ehi, dentifricio? Sei sveglio? Io mi sono già svegliata, ma tu dormi ancora? Dai, esci! Che delusione! Volevi del dentifricio? Ma hai una pompa a mano! Con cosa dovrei lavarmi i denti adesso? Ti sono piaciuti i nostri spot? Hai mai visto un annuncio che non ha deluso le tue aspettative? Raccontacelo nei commenti! Metti like a questo video, iscriviti al nostro canale e fai click sulla campanella per non perderti i nuovi video di Troom Troom!